Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, saluta Like Ciao ragazzi Lui lo chiamiamo Like2 perché è suo fratello quindi Oggi ragazzi che cosa faremo di Ludo Like? Lascondino Oggi ragazzi il primo episodio di Max e... No, Max e avventure, cretino Max avventure perché infatti oggi faremo avventure Siamo qui all'aria aperta E oggi faremo una cosa bella Se questo video farà tante visualizzazioni faremo altri video così, saluta Ciao Eh sì, ok ma adesso devi cercarci perché sarai tu a cercarci Capitano Sì, allora, visto che lui non sa contare Like2 così lo chiamiamo Aspetta no, non sai contare, non è vero Ti diciamo noi via, ok? E ci devi cercare Ok, 3, 2, 1, stati qua e noi andiamo a cercare Like, like, aspetta Aspetta, aspetta So cosa fare Ci mettiamo dietro in una macchina Tanto non penserà mai che siamo lì, ok? A mio vedere diciamo via 1, 2, 3 Via! Oggi, oggi Stai abbassato Stai abbassato Perché se no mi vede È lì È lì, è lì ragazzi È lì ragazzi È lì È lì Spostiamoci Ok Siamo in un posto brutto Siamo in un posto brutto Siamo in un posto brutto A mio via, spostiamoci Vieni, spostiamoci Donno, andiamo di qua Vieni, vieni, vieni Abbassati, ti vede Eh, senti Cerca Dov'è? Vieni, qui Vieni, qui Vieni, si Sì Abbassati Dov'è? Occhio Andiamo di qua Qua non ci troverà Andiamo nella boscaglia È un bosco È un bosco Allora È lì Ragazzi Dobbiamo scappare Ragazzi Abbassati 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 Ok, like Se ne sta andando sicuro Ok Ok, ecco Guardate Ragazzi Guardate Vieni qua Facciamo il giro Così non ci vede Andiamo, andiamo Andiamo Dove possiamo nasconderci Nella fermata Mettiamoci sopra la fermata Così non ci vedrà mai No qua no No qua Qua no Occhio però se sfonda di là Cosa facciamo Andiamo di qua Ho un'idea Cosa facciamo Non lo so Non lo so Neanch'io Possiamo nasconderci Oppure Mettereci comodi Nascondi Andiamo Nella boscaglia Lì Vieni qua con me Occhio Sei qui Occhio 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 Boscaglia Ma qua Non possiamo andarci È troppo ripeto C'è un gatto Un gattino Vieni qua con me Andiamo verso di là Dobbiamo stare attenti Perché Se avviene È la fine Ok Vieni qua con me Vieni Vieni Piano Piano Ok ragazzi Guardate Abbiamo fatto Abbiamo dovuto fare il giro Perché Se noi non facevamo il giro Eravamo spacciati Ok Ragazzi Ok Like è andato da un altro posto È là È là Ah Like È là Basta fare libera Ehi Siamo qui Vieni a prenderci Libera No No Dov'era Dov'era Era là Ecco Libera Libera per tutti Abbiamo vinto Saluta Ciao Eh sì Sì Eh ragazzi Glielo diciamo quello che volevo dire Eh sì Noi Ragazzi Abbiamo creato un gioco Che è tra Acchiapparella E Nascondino In questo gioco Possiamo sia scappare Che nasconderci Lo abbiamo chiamato Come una fusione Lo abbiamo chiamato Acchiappandino Questo gioco Se volete un episodio Di Acchiappandino Basta che mettete Tanti like E vi iscrivete al canale Adesso abbiamo fatto Nascondino E poi Uniremo Nascondino E Acchiapparella E creeremo Dillo tu Creeremo Un buon ricordo Come non te lo ricordo Acchiappandino Acchiappandino Eh sì Esiste pure Un Acchiappandino 2 Il gioco Acchiappandino Sì Sta zitto Poi non dobbiamo spoilerare tutto Perché se no Poi finisce male Comunque In questo Acchiappandino Lui Si deve nascondere Acchiappandino 1 Si deve nascondere E noi dobbiamo scappare Ragazzi Se volete un video del genere Questo video deve fare Tanti visualizza Ok Adesso facciamo Una gara di corsa Così Tutte e due Ok dai 3 2 1 Via Io sono vero Addios Ho vinto Aiuto Ciao Ok Oh guarda Sta scappando Sta scappando Prendetelo No ho vinto E io vinco però di qua Ok ragazzi Basta Salutate Ciao No ho vinto Ciao